Musica Madre e figlio intossicati da monossido di carbonio a Villa Dossola e due trasferiti in camera iperbarica ai cedri di Fara Nessuna offerta d'acquisto per il punto vendita di Crevola di Mercatone 1 la novità emersa nel corso dell'incontro al Mise Celebrata oggi a Verbagna Santa Barbara, vigili del fuoco in festa nel VCO gli interventi sono stati quest'anno 3500 il parco giochi video sorvegliato grazie all'associazione Amici di Bagnella il comune esempio di ottima collaborazione la pentola della solidarietà nel ricordo di Francesco Tacchini i dipendenti di Lagostina hanno donato 5600 euro a Caritas e Aplo come tutti i mercoledì il punto dei campionati di calcio e di volley del CSI tanto equilibrio nei vari gironi ben ritrovati dalla redazione di VCA Notizie la cronaca in apertura di giornale sfiorata la tragedia questa mattina al villaggio Sisma Villa Dossola due persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'origine del fatto potrebbe esserci il malfunzionamento della caldaia gli intossicati sono stati trasferiti dal San Biagio alla clinica Icedri di Fara a Novarese per essere trattati in camera iperbarica sono due le persone rimaste intossicate da monossido di carbonio questa mattina a Villa Dossola fortunatamente non sono in pericolo di vita madre e figlio di 74 e 56 anni residenti in piazza Motta le cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Domodossola ma risulterebbe secondo le prime informazioni un probabile malfunzionamento di una caldaia a gas le due persone soccorse sono state trasportate al Dea del San Biagio di Domodossola per le prime cure accusavano vertigine e difficoltà di concentrazione sintomi tipici dell'intossicazione da monossido sono poi stati trasferiti a Fara a Novarese per essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica le loro condizioni sono in corso di accertamento purtroppo non ce l'hanno fatta i gatti che abitavano in casa con loro che sono stati trovati morti sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Villa Dossola ora invece siamo all'occupazione in primo piano l'avvertenza Mercatone 1 ieri c'è stato un importante tavolo al Ministero per lo sviluppo economico purtroppo non ci sono buone notizie per gli ex lavoratori del negozio di Crevola Dossola i potenziali nuovi acquirenti pari non siano interessati all'affare il punto vendita di Crevola Dossola di Mercatone 1 non è appetibile per i potenziali acquirenti interessati al fallimento del gruppo la notizia è stata comunicata ieri dai commissari nel corso dell'incontro alla Mise fra le 14 offerte pervenute nessuna riguarda il negozio crevolese le offerte pervenute interessano solo 44 dei 52 negozi dislocati su tutto il territorio nazionale in Piemonte sono 4 complessivamente i punti vendita nella stessa condizione di Crevola ovvero Caltignaga nel Novarese Serravalle Scrivia nell'Alessandrino e Villa Franca d'Asti a cui vanno ad aggiungersi Castagnato, Verdello, Capena e Bari i commissari stanno ancora avvagliando le varie offerte nessuna decisione è stata presa una riguarderebbe solo 24 punti un'altra proposta parla dell'acquisizione di soli 21 negozi la materia risulta complessa anche per questo motivo i tre commissari hanno annunciato che la partita non potrà essere chiusa nei termini previsti ovvero entro fine anno e hanno lasciato intendere la richiesta di una proroga contestualmente sarà chiesta anche l'estensione della cassa integrazione straordinaria per gli ex lavoratori del colosso dell'arredamento low cost e se la situazione non fosse già abbastanza difficile da sottolineare anche i timori espressi a livello nazionale dai rappresentanti sindacali presenti al Mise ieri e che seguono l'avvertenza c'è preoccupazione rispetto alla tenuta occupazionale dice Michele Piffero della CGL Novara VCO questo perché l'informativa sulle offerte presentata ieri al Mise lascerebbe intendere che i lavoratori che saranno coinvolti nella potenziale cessione dovrebbero essere meno della metà del totale vi sono punti vendita che non sarebbero riavviati e poi vi sono anche le offerte che prevedono una sostanziale riduzione del personale rispetto a quello che era impiegato sino al maggio scorso sottolineano infatti dal mondo sindacale in occasione di Santa Barbara festa al comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata l'occasione per fare il bilancio di un anno di lavoro nel VCO sono stati 3500 gli interventi di soccorso effettuati dai Vigili del Fuoco in aumento le operazioni di spegnimento degli incendi in calo ai soccorsi per incidenti stradali i cambiamenti del clima hanno portato anche ad un aumento significativo degli interventi per danni d'acqua alberi pericolanti e movimenti frannosi sono stati 3500 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati durante l'anno dai Vigili del Fuoco del verbano Cusio Ossora il dato è stato illustrato questa mattina dal comandante provinciale Felice Irakha in occasione della festa di Santa Barbara il 59% degli interventi totali è stato effettuato dalla sede di Verbagna il 20% dalla sede permanente di Domodossola il restante 21% dalle 9 sedi gestite da volontari si è registrato un lieve incremento dell'operazione di spegnimento incendi un calo dei soccorsi per incidenti stradali e per bonifica dei nidi di Calabroni e un significativo aumento degli interventi per danni d'acqua, alberi pericolanti movimenti franosi dovuti a violenti temporali e tornado sono stati eseguiti 591 interventi per incendi con un lieve aumento di quelli boschivi 548 per la messa in sicurezza di piante pericolanti 534 per la disinfestazione di nidi di Calabroni 207 per apertura a porte 178 per soccorso a persone in difficoltà lo scorso 25 ottobre 5 Vigili del Fuoco hanno ricevuto un elogio dal capo del Corpo Nazionale per il lavoro svolto a Bavene in occasione del tornado del 12 agosto sono poi state conferite le onorificenze Croce di Anzianità Adam, Williams, Meloni, Marco Candiotti Lorenzo Giavina, Simone Crivelli Andrea Mantuan, Marco Sacchi Riccardo Sacchi, Gabriele Sarli e Marta Sessa Diploma di Lodevole Servizio Giorgio Ghidella, Eutizio Sevi Fernando Spinozzi, Gabriele Guilizzoni Giorgio Lucchini, Tullio Domenici Walter Ottina, Giovanni Viola Francesco Bionda, Fulvio Manoni Dalla sinergia nata tra il Comune di Omenia e l'Associazione Amici di Bagnella è un progetto che ha ridato vita ad un angolo verde del quartiere stiamo parlando del Parco Giochi dove proprio in questi giorni è stato installato anche un impianto di videosorveglianza Un esempio di collaborazione tra l'amministrazione comunale di Omenia e l'Associazione Amici di Bagnella qui il parco intitolato a Francesca Masnagheti e Tiziano Beltrami da oggi di fatto è videosorvegliato grazie all'interessamento e al lavoro degli Amici di Bagnella sono state installate quattro videocamere c'è addirittura anche una piccola centralina insomma la collaborazione funziona Beh, questo è proprio l'esempio di come funzionano le collaborazioni tra l'Associazione e il Comune già il parco è stato realizzato proprio da un'idea dell'Associazione che ha raccolto i finanziamenti anche grazie alla collaborazione di altri soggetti anche adesso con la videosorveglianza l'Associazione ha deciso di fare un regalo alla frazione di Bagnella e al Comune mettendo in sicurezza proprio tutto il parco e i bambini che vi giocano Continua l'impegno da parte degli Amici di Bagnella a favore della comunità? Direi proprio di sì, diciamo che consegnando questo impianto di videosorveglianza alla cittadinanza è un completamento l'iniziativa nata un paio d'anni fa dove intendevamo recuperare un'area verde dismessa a tutti gli effetti quindi oggi il parco giochi è molto frequentato dai bambini delle scuole e per noi è un vanto in quanto possiamo dimostrare come l'unione delle forze tra il pubblico e il privato, quindi l'associazionismo, il volontariato possa consentire di investire sul territorio la nostra è un'associazione di volontari, come dicevo prima che gestisce delle aree comunali il parco giochi, abbiamo l'area della spiaggetta denominata così e la boschina, tutte zone a verde pubbliche di libero accesso che noi manteniamo durante l'anno è stata denominata la pentola della solidarietà è l'iniziativa promossa ogni anno in occasione del Natale dalla Lagostina, l'azienda del casalingo con sede a Omegna si tratta di una raccolta benefica ogni anno Lagostina mette in vendita a prezzi stracciati prodotti di fine serie il ricavato quest'anno 5.600 euro è stato diviso in parti eque alla Caritas di Omegna e all'associazione Ablo in questa pentola, nella pentola Lagostina bolle la solidarietà e così ormai da tantissimi anni, 5-6 anni ma forse anche da prima alla vigilia di Natale i dipendenti dell'azienda fanno grazie alla direzione una raccolta straordinaria di fondi che poi vengono destinati a solidarietà La pentola della solidarietà è diventato un modo per devolvere a categorie associazioni che non sono fortunate dei fondi che tramite questo meccanismo raccogliamo tramite una partecipazione che dobbiamo dire è veramente straordinaria eccezionale di tutti i dipendenti della società che tramite la possibilità di acquistare ha delle cifre veramente simboliche dei prodotti che non hanno più diciamo continuità sul mercato quindi sono dei fine serie dei residui di magazzino e quindi con questo ricavato poi dopo decidiamo di devolverlo in beneficenza quest'anno nello specifico abbiamo ritenuto questa iniziativa utile al fine di devolvere il ricavato sono circa 5.600 euro che verranno devoluti in parti uguali a due associazioni di volontariato di Omenia che sono la Ablo e la San Vincenzo qui dobbiamo dire che in questa occasione quest'anno è veramente particolare perché abbiamo fatto dato seguito ad una volontà espressa dalla famiglia di un nostro collega Luigi Tacchini che purtroppo quest'anno ha perso il proprio figlio in un incidente stradale un modo davvero bello per ricordare Francesco che svolgeva questa attività di volontariato con voi della San Vincenzo e della Caritas anche certo sicuramente ringraziamo la ditta l'Agostino e tutte le maestranze che hanno pensato a questo bellissimo atto di solidarietà in ricordo di Francesco che ricordiamo veramente con tanto affetto e auguriamo a tutti tanto bene e alla famiglia di ritrovare pace e serenità una testimonianza concleta anche per voi di Ablo perché Francesco collaborava con voi era un vostro amico ed è anche un bel ricordo questo posso solamente ringraziare per l'atto per la donazione che è stata fatta in memoria proprio a Francesco che è stato proprio importante per noi ci ha aiutato tanto solidarietà anche nei prossimi servizi nel passato fine settimana anche nei supermercati del VCO è stata protagonista l'iniziativa la colletta alimentare nel servizio il punto sulle donazioni la ventitresima giornata della colletta alimentare nel VCO ha fruttato qualcosa come 31.586 kg di derrate alimentari si tratta di generi di prima necessità che saranno distribuiti a tante persone bisognose del territorio dai quattro enti ed associazioni del Verbano Cusiossola collegati al Banco Alimentare nel dettaglio l'area del Verbano ha donato 13.417 kg di materiali l'ossola ha sfondato il tetto dei 12.000 buona anche la performance del Cusio che ha aggiunto al materiale raccolto 6.105 kg di generi alimentari una giornata di grande solidarietà che ogni anno mette in moto un'oliata macchina anche a livello di volontariato a livello locale infatti i volontari mobilitati nei 50 punti vendita che hanno aderito all'iniziativa sono stati circa 700 per quanto riguarda le associazioni che hanno operato sul campo con la raccolta dei generi donati nei vari supermercati della provincia vale la pena citare Eldazagna di Domodossola e San Vincenzo di Omenia oltre ai frati minori cappuccini una giornata di mobilitazione anche per gli alpini del VCO ultima nota riguarda la presenza di molti giovani studenti fra i volontari impegnati nella raccolta del materiale donato ed ora l'iniziativa benefica della casa del profumo in occasione dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore una candela a sostegno del progetto per l'acquisto di una nuova apparecchiatura per l'urologia dell'ospedale San Biagio di Domodossola per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore alla prostata è targata a casa del profumo e sarà venduta presso la casa museo in occasione dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore dal 6 all'8 dicembre l'attenzione della manifestazione quest'anno verso l'ambiente con stoviglie compostabili presso i punti di ristoro e verso la solidarietà da qui la decisione di appoggiare la raccolta fondi sono molto contento sono onorato che gli organizzatori dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore e la casa del profumo hanno aderito al progetto anche perché uno degli obiettivi principali della nostra struttura complessa di urologia è proprio diffondere la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore prostatico quindi grazie a tutti ci vediamo ai mercatini di Natale comprate la candela perché aiutate noi aiutate i cittadini e i pazienti del vostro territorio ricordiamo l'importanza di questo macchinario sì il macchinario è veramente molto utile nella diagnosi precoce del tumore prostatico è un software che viene installato nello strumento è già presente nella nostra ambulatorio questo permette di pungere e fare delle biopsie molto più accurate quindi riesce a diagnosticare le malattie di tipo tumorale che in realtà necessitano una terapia chirurgica da quelle che possono essere anche soltanto osservate o trattate in maniera conservativa intanto l'iniziativa promossa da Antrona con le stelle ha già raccolto 10.000 euro ai quali se ne sommano altrettanti di fondazione comunitaria VCO ne servono 36.000 in tutto il Natale è da sempre momento di vitale importanza per il settore dell'abbigliamento a partire dal prossimo weekend fino a Natale negozi aperti anche nei giorni festivi per gli acquisti natalizi con Andrea Perri Lagostina presidente interprovinciale Novara VCO di Federmoda il nostro Franco Filippetto ha fatto il punto della situazione Come sono andate le cose? Le cose sono andate abbastanza bene diciamo che c'è stato un afflusso turistico un forte afflusso turistico una vendita media più bassa rispetto agli anni passati però diciamo possiamo dire che è stata positiva La clientela oltre i locali ci sono anche villeggianti stranieri? Soprattutto villeggianti ci sono soprattutto stranieri si sono rivisti i villeggianti anche le visite fuori porta dal milanese Varesotto insomma ecco le giornate toccate fuga Diciamo che quello che si è registrato adesso è una buona prospettiva poi per l'inverno? Speriamo speriamo sia di buon auspicio purtroppo abbiamo durante la settimana questo calo fisiologico e poi abbiamo una forte affluenza affluenza al fine settimana speriamo di costantizzare questa questa affluenza ecco Per quanto riguarda i prodotti invece italiani oppure avete anche prodotti che vengono dall'estero? Soprattutto il Made in Italy e puntiamo soprattutto sul Made in il Made in Italy che è il nostro fiore all'occhiello C'è da aggiungere che proprio per favorire gli acquisti natalizi ad Arona la giunta Gusmeroli nella seduta di ieri ha deciso di rendere gratuito il parcheggio di Piazzale Barberi succederà da venerdì 6 dicembre e per tutto il mese la nuova disposizione sarà in vigore dalle 21 del venerdì fino alla domenica sera e nuovo appuntamento con gli aperitivi in biblioteca organizzati dai ragazzi della consulta giovani del comune di Domodosso la sabato prossimo 7 dicembre alle 17.30 presso la biblioteca civica è programmato l'incontro dal titolo l'attualità dei principi fondamentali della Costituzione a 70 anni dalla sua entrata in vigore sarà l'occasione per dialogare con Giovanni Boggero ricercatore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino torna da questo fine settimana a Verbania di Vertilandia diverse novità dal punto di ristoro allo Sky Bar sull'onda del successo degli anni passati torna da questo fine settimana a Villa Giulia a Verbania la quinta edizione di Divertilandia evento dedicato ai piccoli organizzato dall'anno profi TAP e VCO in una formula rinnovata invitiamo tutti i bambini a venire a questo evento che è un evento sicuramente che dà tante possibilità in quanto il bambino venendo a Villa Giulia può sbizzarrirsi tra laboratori spettacoli animazione visita di stanze bellissime e quest'anno in più ci sarà anche il presepe ma abbiamo pensato anche ai genitori quindi ci sarà ristorazione uno sky bar la possibilità di consumare degli aperitivi in modo che mentre i bambini magari si dilettano nelle attività i genitori possono trascorrere delle piacevole ore sono previste apertura al pubblico dalle ore 14 e 30 alle 18 e 30 in tutti i weekend prima di Natale e dal 27 al 30 dicembre in alcune giornate sarà in funzione il trenino sul lungolago ci saranno anche aperture dedicate alle scuole non è trascurato l'aspetto della solidarietà sarà infatti presente la fondazione sulla ricerca della fibrosicistica delegazione di Varese per raccogliere fondi per la ricerca ma anche per sensibilizzare e sollecitare l'interesse verso questa patologia prima delle notizie sportive uno sguardo alla nostra programmazione domani alle 18 con repliche nella giornata di venerdì alle 13 alle 21 e 30 l'appuntamento è con l'infinito dentro un bisogno questa settimana spazio all'incontro dell'infinito dentro un bisogno e si parlerà di realtà virtuale e ora siamo allo sport come tutti mercoledì spazio al CSI cominciamo dai risultati del calcio un terzetto in nevetta alla gironea del CSI la premia però è la sola a punteggio pieno con 7 vittorie in 7 partite l'ultima per 3 a 2 contro la Cappuccina appaiate agli antigoriani ci sono la roba ducia che ha riposato e il Terra Nova di Vin Porcello che ha rifilato un ternistico 6 a 0 al team Sport nella girone B Maserai United senza ostacoli nono sigillo con l'Arcadia ha sbattuto 5 a 1 in seguo a meno 5 il gravellona Piazzolla che ha avuto ragione 8 a 1 del Rodcafè staccatissime tutte le altre come adesso Domo terzo e Romianca quarto nel girone C c'era lo scontro diretto tra Caffè Stangrini e Luzzogno lo hanno vinto i primi per 2 a 1 ora hanno 4 punti di immagine sui rivali terzo e San Martino con 22 punti 5 a 1 alla River Plus atletico Paruzzarello in vetta al girone D ma la prima della classe ha dovuto faticare per battere il Porchis Trobaso superato di una lunghezza 4 a 3 piazza d'onore per la Rocca Gold e per il Lequarna che hanno 18 punti 6 in meno della prima della classe grande equilibrio nel girone dove comandano in due Pesce d'Oro e Bar Milano Intra che hanno battuto rispettivamente Lulibar e PS Foto Video nel calcio a 5 davanti a tutti il Divin Porcello che precede la pasticceria La Franca e il Luzzogno staccate di 3 punti dai ragazzi del presidente Massimo Sartoretti e adesso andiamo a vedere quello che è successo sotto rete il resoconto della settimana del volley CSI parte dalla presentazione della prima uscita stagionale di quello che è probabilmente il fiore all'occhiello dell'attività sotto rete del comitato VCO del centro sportivo italiano inizia come da tradizione l'8 dicembre giorno dell'immacolata concezione il circuito provinciale di Minivolli che nelle ultime annate ha catalizzato numeri importanti dal punto di vista partecipativo e dal punto di vista organizzativo si gioca domenica al palasporto di Ornavasso con inizio alle ore 10 e conclusione indicativamente con le più classiche delle premiazioni dopo le 16 tra le opportunità di gioco sulla moltitudine di campecchi disegnati sul parquet dell'impianto che ha scritto pagine importanti del volley locale ecco la palla rilanciata per le annate 2012 2013 2014 primo livello per le annate 2010 2011 e 2012 ed infine secondo livello per il 2008 2009 e 2010 dopo la prima uscita la stagione per i più piccini e le più piccine verterà su 12 tappe da dicembre 2019 fino al 2 giugno 2020 con la classica gran conclusione all'ido di Omenia i campionati intanto continuano la loro corsa in under 13 Omenia batte a 3 a 0 Rosalziora a piedi mulera e scappa a 12 punti seguita a 8 da Vogonia e Rosalziora a Verbania con la formazione di Sonia Cottini che ha vinto 3 a 0 contro Invorio tra le allievi a 12 punti c'è area libera attallonata da Rosalziora a piedi mulera e volle i Vigezzo a 9 perde contatto Verbania dopo due stop consecutivi il campionato Juniores propone un tandem alla guida del torneo con Omenia e area libera a Premosello che comandano con 12 punti totali infine il campionato Open che ha ripreso la fase interprovinciale dopo la Coppa Comitato con Auxilium Villa che ha battuto Fonica Lessona mentre Vega Occhiali e Rosalziora a piedi mulera e 2008 Domodossola hanno vinto al contrario della formazione di Villa che ha ottenuto il successo pieno solamente al quinto set i loro impegni in testa c'è proprio Villa con 9 punti a 5 punti segue il gruppo di pedi mulera del soldanizio del presidente Carlo Zanoni e chiudiamo con il volley di serie B ci sono voluti 57 minuti esatti alla palzola Pavic per archiviare la partita con l'acqua calizzano carcare 3-7 a 0 la dicono lunga sulla ritrovata forma delle sesiane che nelle tre fasi di gioco hanno dominato ampiamente le savonesi senza mai lasciare spazio alle loro iniziative un recupero l'incontro doveva disputarsi il 23 novembre scorso quello di martedì 3 dicembre che ha visto le ragazze di coach Papadopoulos in gran forma pronti a disputare sabato 7 dicembre tra le muramiche del Palace scanzetta il match con la libellula area bra che in classifica si trova a quota 6 punti ora la palzola Pavic a 12 punti a pari merito con Alba Volley e Caselle Volley in una classifica dominata dal team del Volley Garlasco questa era l'ultima notizia per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito www.wcoazzurratv.it e i nostri canali social grazie per essere stati con noi buon proseguimento con i nostri programmi www.wcoazzurratv.it